Piemonte Land of Perfection, ovvero il consorzio dei consorsi che rappresenta appunto i vini del Piemonte, non poteva mancare a vino, mancare la figura del Presidente perché si parla proprio di Piemonte. Si parla di Piemonte, poi per noi è l'appuntamento fisso, ormai da tre anni Piemonte Land, che è questo appunto consorzio di tutti i consorsi del vino piemontese, ha l'obbligo anche morale di essere presente e collaboriamo bene con questa organizzazione, quindi con l'ente fiera e col comune di Alba perché riteniamo che sia veramente una vetrina importante non solo esclusivamente per alcune tipologie di vino ma per tutti i vini.